Ciao, oggi giocheremo a palla prigioniera da ginnaste. Adesso Emma e Nicole ci spiegano le regole. Quindi ci saranno due squadre? Sì, una che salta sul trampolone si deve lanciare in buca. E deve schivare la palla che arriva. Che lancia l'altra squadra da sotto la sbarra. Vai. E se la squadra che lancia la palla colpisce quella che salta, deve andare in prigione. Se invece la prende al volo, libera i prigionieri. Ok, durerebbe a tempo, giusto? Due minuti a manche. Quando passano i due minuti, in base al numero di giocatori che c'è in prigione, abbiamo i punti. Ok? Sì. Perfetto, andiamo. E le squadre? Le squadre siete voi due capitane? Fatele. Spari, rispari. Spari. Bim, bum, bam. Mio. Dai, rispari, scusa. Quattro più tre fa sette. E... Letizia. Giada. Padina. Purna. Kate. E Rosa. Sì. Chi inizia? Chi lancia? E chi salta? Chi esce lancia? Chi esce lancia? Chi esce lancia? Ok. Pari o dispari? Pari. Bim, bum, bam. Lai, chi? Mio. Lancia. Ok. Ok. Andiamo. Allora, la squadra, la squadra che lancia, benissimo, dal materasso. Ottimo. Sì, sì, la vanno a recuperare loro. Chi lancia? Puoi partire, Kate? Chi salta deve cercare di non farsi prendere, ovviamente, eh? Ti ha preso? No. Vai, voi veloci a saltare, veloci a saltare. Vai, parti, parti l'altro, parti l'altro, parti, parti. Se non sono lenti, si arrangiano. Via, partire. Dai, dai, brava. Ah, potremmo anche contare quanti si liberano. Kate, sei prigioniera? Sì. Ok. Non mi ho prende, non mi ho prende, non mi ho prende. Vai, vai, uno. Avete una prigioniera? Adesso cercheranno di prenderla al volo, così almeno liberano la Kate. Oh, l'ha presa. Ti ha preso il piede, vero Letty? Vai, sotto, via, 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 via. Parti. Abbiamo due giocatori e due prigionieri. Vai, vai, vai. Miki, ti hanno preso anche te? No, io ti hanno preso anche te. No. Che fa? Stop, finito. Abbiamo due prigionieri. Cambio squadra. Sì. Partita la seconda squadra. Presa. Prigione. Se già da adesso la prende al volo, libera la Miki. Sì. 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 No Presa bravissima rosa in questo momento ne abbiamo tre in prigione due presa rosa ne avete tre la giadi può salvare tutto o perdere tutto quanto manca? franco quanto è il tempo? no presa finito il tempo mentre eri in volo quindi loro hanno quattro prigionieri quattro prigionieri tocca a voi cambio no no Miki! Sì. Chi va? Chi va bene? Eh, non mi ricordo! Vai bene? Fortuna! Vai! Presa! Ti ha preso, Leti, eh? Sì. Brava! Presa! È pieno! Emma! Brava! Sì! Brava! Brava! abbi! Non so maybe... ammys. Siamo ad 2 in prigione? Bai vai! Mamma! Quasi, quasi l'avevi presa al volo, eh. Siamo a tre. Brava! Zero prigionieri. Bravissime. Cambio. Vai, mi vediamo. Non ci l'hanno a prendere. Dovrei che questa è l'ultima, no? Ok. Se loro adesso... Avete perso comunque, anche se adesso fate... Siamo in cinque. Eh, ok. Siamo in quattro, però fa niente. Siamo in quattro, ma non la facciamo. Sì, ma c'è l'altro molto. Avete vinto voi? Non vado, non vado. Eh? Ma sì, perché non vado. Eh, ma avete perso, Kate? No, noi abbiamo vinto. Voi avete vinto, scusami. Eh, abbiamo vinto, ragazze. Con quanti punti, Franco? Sei a zero. ihi. Ahaha. Allora, c'è più che altro muove? Sei a zero, ragazze. Dai, la prossima volta rifacciamo la sfida, ok? Ora, magari pa' 14. E allora adesso fa 4, vai a 6 a 4. Ebbene, sei a zero. va bene dai via brava al volo brava no ah ok niente Giadi Giadi sei in prigione mi sa che l'hai presa eh brava potevi prendere al volo eh dai provate tanto esatto oh devi provare a prendere al volo eh amore dai al volo stop allora hanno due prigionieri dai c'è solo due a sei otto o sei vince la squadra di Emma eri tu no la credo di si la nostra com'è che si dice che mi viene in mente la capitana la capitana e lì tu applauso brave ciao e seguiteci anche su instagram canale centro sparbollate no non è un canale su instagram pagina uuuu pagina ahahahahah padina pagina ahahahah pagina Grazie.